Benvenuti negli studi di Repubblica TV, stiamo per assistere a un esperimento eccezionale, una delle prime bistecche stampate in 3D, con una stampante che è quella che ho qui davanti. Lo sapete che il settore del cibo è uno di quelli che si dice che verrà rivoluzionato alle nuove tecnologie, si parla di carne senza carne, di uova senza uova, di pesce senza pesce e già sono nei molti store americani, ci sono gli hamburger fatti con proteine vegetali, l'impossible burger, beyond meat, ma una bistecca, quella ancora non l'ha assaggiata nessuno. L'assaggeremo oggi, c'è una start-up di un italiano che stava a Barcellona, di un ricercatore italiano che stava a Barcellona, che è alla frontiera di questo processo, che recentemente ha ricevuto un finanziamento importante per andare avanti e portare questa bistecca sul mercato. Lui oggi è arrivato qua a Roma da Barcellona, ve lo presento, Giuseppe Scionti, 32 anni, ben arrivato, benvenuto qua tra noi, ha portato la sua stampante, il suo fornello con cui alla fine cucineremo quello che verrà fuori e lo assaggeremo e vi racconteremo com'è. Giuseppe, a te, raccontaci. Niente, il fatto è proprio quello di cercare di costruire qualcosa che ha il sapore della carne, l'apparenza e la consistenza della carne, ma in più è vegetale. Dimmi perché, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che c'è una richiesta enorme da parte delle persone, delle aziende, del settore e anche dei governi a trovare un'alternativa alla carne. Perché la carne, che problemi ci dà la carne? Beh, problemi ambientali, problemi ovviamente di etica animale, problemi di CO2, di metano. Questa è una normale stampante 3D, quella che vediamo in tutte le Maker Faire. Sì, sì, è adattata. La parte nuova, diciamo, adattata è questa di qui, in cui si vede che c'è un estrusore, quindi un sistema che spinge il materiale che è dentro delle capsule in modo tale che si formino dei microfilamenti. Perfetto, facciamola partire e poi mi racconti tutto il processo. Come parte? La faccio partire da qui. Abbiamo visto, oramai si assaggia normalmente negli Stati Uniti l'hamburger fatto con proteine vegetali. Il sapore, la consistenza è quello di una carne normale e la bistecca è un'altra cosa, cioè è il muscolo, è il tessuto. Sì, infatti la novità e la difficoltà è proprio quella di costruire un tessuto simile a un tessuto, per esempio, di un muscolo di una vacca. Con quali ingredienti fai la tua bistecca per adesso? Sì, questo è il primo prototipo in cui si vede che abbiamo utilizzato estratti di piselli, estratti di proteine di riso, abbiamo utilizzato carboidrati che sono fibre delle alghe, acqua e abbiamo utilizzato un'aroma naturale. Nelle prossime versioni incorporeremo per dare il sapore anche gli oli, che normalmente si usano per dare il sapore alla carne vegetale. Il materiale è un materiale quindi completamente vegetale, sono estratti di proteine del riso e dei piselli che sono normalmente in forma di una polvere. Possono usare? Sì, si mette questa aroma naturale. Sembrano gli omogenizzati che do mio figlio, quindi riempi questa pipetta, questa siringa. Sì, è una capsula in forma di siringa, come vedete, che è un beccuccio. Adesso la riempiamo fino a poterla riempire del tutto e si può caricare sulla stampante. Com'è dal punto di vista biologico, chimico, che il sapore alla fine assomiglia alla carne? Assomiglia alla carne alla fine? Sì, questo esempio in particolare no, perché stiamo facendo la prima versione in cui ha la consistenza, il secondo passo sarà l'apparenza in cui si mette il colore, la forma intridimensionale più complicata e il terzo passo quello del sapore. Allora, tu hai fondato a un certo punto, facevi il ricercatore, stavi all'università, insegnavi, facevi ricerca, decidi di lanciarti nel mondo delle start-up, di fondare la tua azienda, in tutto un altro mondo, si chiama Novamit. Perché la fai a Barcellona? Perché eri già lì o ci hai pensato a tornare in Italia? Gli ultimi tre anni ero lì, però è coinciso con il fatto che Barcellona è un hub del food tech e delle stampanti 3D. La disponibilità degli chef di cucinare delle cose. Allora, in realtà gli interessa molto, ci sono chef che si centrano più per esempio sulla cucina locale, altri che si centrano di più su cucina di innovazione, come Fran Andrea, cucina molecolare, quindi dipende dal tipo di chef. Qui in Italia ovviamente con piacere adesso inizieremo a contattare alcuni chef per vedere... Quindi sei pronto a collaborare con chef italiani se lo vogliono assaggiare? Sì, sì, ma tutti quelli che vogliono rischiare qualcosa di nuovo che non esiste, perché tieni conto che c'è un vantaggio in più di cui non abbiamo parlato. Controllando la consistenza, controllando il sapore e controllando l'apparenza, sono tre parametri che controllandoli separatamente si può costruire qualcosa che ha l'apparenza di un fungo e la consistenza della carne, oppure qualcosa che assomiglia a una bistecca ma al sapore del pesce. Ma siamo sicuri che ci va di arrivare là? Non è quasi giocare con quello a cui noi siamo abituati? È vero, è vero. Soprattutto nel Mediterraneo siamo molto più resti a provare cose così rischiose. Il fungo che sta di carne e il pesce che sta... Però tutto dipende dagli ingredienti, se uno sa esattamente cosa ha messo dentro e lo fa con un chef di qualità, si può creare qualcosa di nuovo o no, perché se uno non prova non crea, no? Quando pensi che con questo prodotto puoi arrivare sul mercato? Adesso il nostro food engineer proprio adesso sta costruendo la prossima versione, possiamo vederla sullo schermo ora, facciamo vedere la prossima versione, la prossima versione è composta da una parte rossa, questo è ovviamente un rendering, quindi un modello tridimensionale che è la parte del muscolo e in più stiamo cercando di comporre una parte, come vedete lì in bianco, che sarebbe la parte del grasso. Serve per il sapore assoluto? Sì, 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 in più cercheremo... Oggi non c'è il grasso qua dentro, non c'è nulla di grasso? No, la dovremmo aggiungere a parte adesso sulla padella. Perfetto. Quello che ti motiva è avere un impatto sul mondo? Sì, 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 è un momento in cui soprattutto noi abbiamo la tecnologia e l'informazione, tecnologia e informazione, informazione per esempio su internet, università di altissimo calibro e la tecnologia per avere un impatto positivo sull'ambiente e essere ricordati, per essere la prima generazione di persone che è l'ultima, che poteva cambiare le cose ma la prima che le ha cambiate davvero per cercare di invertire il cambio climatico. Tu non hai paura che in un paese come l'Italia, che è un paese che ha fatto del cibo, del buon cibo, del buon mangiare, il nostro DNA, la nostra cultura, questa cosa venga respinta? Sì, infatti io ricevo molti messaggi come che può rimanere lì, non c'è bisogno qui in Italia, però voglio dire una cosa, se troviamo la qualità del cibo migliore, adesso ad Amsterdam e negli Stati Uniti che magari non ne sanno come noi del cibo, spingono su questo e potrebbero arrivare lontano, invece noi che abbiamo un vantaggio magari l'olio d'oliva extravergine, conoscenze importanti degli chef perché non proviamo noi e perché non siamo noi magari a spingere dalla parte della qualità. Quindi secondo te dentro 5 anni questo tipo di cibo senza cibo sarà sul mercato? Sì, sì, sì. Io penso che nei ristoranti, spero, con una stima mia personale, un paio di anni potrebbe esserci, una stampante più robusta, magari più facile da usare, a grande scala, quindi collaborare con le grandi aziende per portare su grande scala, stiamo studiando un modello di business che è un modello di licenza e di tecnologia. E allora lo fermiamo qui. Quando vuoi due? Sì, lo fermiamo qui e adesso lo separiamo con un po' di acqua, con sale e lo mettiamo in padella. E poi metti acqua e sale adesso? Per separarlo in modo, sì, così si secca un po', io chef, chef diciamo sto imparando. Sì, tu non cucini tra l'altro mi hai detto a casa. Io so fare bene il tiramisù, però mi hanno invitato a dare proprio un corso di alta cucina, di cucina molecolare, una scuola di cucina di alto livello, per cui vedremo un po'. Sì, qui la separiamo dal piattino, mettiamo solo un po' d'olio in padella, come dato che c'è pochissimo olio nel mix proprio della carne, lo bagneremo con olio prima di metterlo in padella e poi vedremo che succede. Mi sono lavato le mani, Riccardo fidati di me. Sì, mi fido, sei uno scienziato, va bene. Sì, poi tu sei uno di quelli che rischia, per cui devi anche rischiare tecnologie nuove mettendoti in prima fila, no? Lo bagniamo un po' con olio, adesso prenderò un fazzolettino, un po' di aromi o qualcosa ci mettiamo? Sì, prenderò un fazzolettino, ci mettiamo prima un po' di olio e basta e poi mettiamo un po' di aromi e ci siamo. Vabbè, è andata oggi la cena, dai. Sì, la cena per tre, se vuoi invitare qualcun altro. Allora, mettiamo un goccino, se si comporta come deve comportarsi. Frigola, mamma mia. Frigola un po', vuol dire che va bene. Adesso è molto alta la temperatura, quindi l'abbasso. In realtà sono piselli, riso e qualcos'altro. Sì, però si comportano come se fosse un pezzo di carne, adesso la consistenza, vedi la struttura è molto semplice, però la prossima volta che ne parleremo sono sicuro che il primo passo, quindi il parametro prossimo che è quello dell'apparenza, adesso bisogna metterci un po' di spezie. Sale già c'era, no? No, in realtà l'acqua col sale deve avere un po' di sale, però ancora dobbiamo ottimizzare la cucina, io non posso fare sia il CEO sia lo chef. No, ma questa secondo me c'è poco ancora da cuocere. Sì, infatti adesso siamo qui. Allora, questa è per barbecue, quindi ci sta. Il vino non l'hai portato, vero? La mandiamo giù così? Il vino purtroppo no, perché sono venuto proprio dall'aeroporto e va bene. Ma questa come la... non abbiamo un coltello, si butta con... Questa la tagliamo proprio con la spatolina questa qui. Allora, qui la novità, se vuoi tagliare la tè, vedrai che è un po' fibroso, essendo qualcosa fatto da proteine vegetali è strano che sia fibroso, va bene? Se vuoi lo posso tagliare io che... Sì? Quindi ha una consistenza un po' speciale, anche se questa volta vediamo che è un po' sottile, però la prossima volta ovviamente porteremo una cosa di più, di più consistente anche dal punto di vista proprio delle dimensioni. Tu l'assaggi ogni volta poi? Sì, sì. Io l'assaggio ogni volta e sono ancora vivo. Però visto che abbiamo lo studio Repubblica TV, se qualcuno lo vuole assaggiare, ragazzi, se è l'ora giusta, siete tutti invitati, non aspettate di guardare la mia faccia. Tutti invitati, qui ce n'è per 50. Vado io? Vai. E' come mangiare l'omogenezza di mio figlio? Quando ero piccolo, mio figlio fosse grande. Allora, è molto sottile, vedrai che c'è questa consistenza un po' strana, un po' fibrosa, che non è tipica delle proteine vegetali. Quando incorporeremo il sapore e un centimetro di spessore vedrai che avrà qualcosa di... La consistenza assomiglia a qualcosa. Qualcuno lo vuole assaggiare? C'è qualche coraggioso? No, è ufficiale, nessuno è venuto. Ti dico una cosa Riccardo, ci tocca finirla, però io ho parlato con degli chef, che sono chef proprio esperti di carne, carne di canguro, carne di coccodrillo e mi hanno detto che la consistenza... Questo io non l'ho mai visto, non funziona, si può lavorare sopra e secondo noi questo non l'abbiamo mai vista, per cui potrebbe avere un futuro. Allora, su questa bistecchina o carpaccio di Nova Meat salutiamo Giuseppe Sciolti, un saluto a tutti gli ascoltatori e lettori di Repubblica, naturalmente. Grazie, ci vediamo la prossima volta. Grazie. Andata. Assomiglia.